Dall'artigianato design esclusivo di pezzi numerati Valentina e Riccardo Sartori di Guidizolo tra gli espositori internazionali dell'atelier Botturi in città per tutta la durata del festival. Una chiesa sconsacrata di impianto romanico trasformata da anni in atelier artistico. La vecchia San Zeno, poi San Zainone nelle Settecento, è una gemma nascosta di Mantova, oggi privata e riqualificata dedicata all'arte. Per la durata del festival letteratura 2016, da domani a domenica, ospiterà una mostra di design ed eccellenza internazionale. È stata un'occasione di 25 anni fa in cui vidi questo spazio che era in vendita ma che era disastrato perché c'era un controsoffitto in era, clizzemicrollato, un 10 cm di guano, di colombo sul pavimento per cui veramente in una situazione incredibile. Con mia moglie facciamo questa pazia di acquisirlo e poi gradualmente siamo riusciti a rivalutarlo e a conservarlo nella veste attuale. Tra gli espositori all'atelier Botturi, nella mostra organizzata da App Industria, anche artigiani di Guirizzolo che propongono pezzi esclusivi e numerati di alta scuola. In mostra ci sono pezzi sia realizzati da me e mio fratello, quindi ideati, quanto siamo appunto designer, sia invece di grandi architetti e designer nazionali e internazionali, quindi di calibro veramente importanti. E sono pezzi edizione limitata, quindi numerati, 99 pezzi, 499 pezzi, numerati sempre e quindi molto esclusivi. Sono pezzi di art design perché raccontano delle storie e non sono semplici progetti, vogliono trasmettere delle emozioni e raccontare qualcosa e raccontare poi anche quella che è la cultura, la nostra cultura italiana, ma non solo. Il nostro progetto, che è Voragine, è composto da un cabine, un buffet e un tavolino, che guardandolo ci trasporta proprio all'interno di una Voragine, ci fa proprio cadere.